E' vero signor giudice che doveste pagare anche il conto di quel soggiorno? Sì, alla fine del soggiorno pagammo le spese di soggiorno presso la foresteria di uno degli stabilimenti carceri della Sinara, nonché le spese di vitto. Non si trattò di somme eccessive. Ma lo trovò giusto? No, non lo trovai giusto, infatti poi rivelai questa circostanza nel 1988 nel corso di una mia audizione del Consiglio Superiore.